Lo sportello del cittadino è a Leporano, in provincia di Taranto, precisamente in via Tamarici. Alcuni cittadini ci hanno sottoposto la questione che ora vi esponiamo e quindi ci sarà un appello rivolto dai cittadini all'amministrazione comunale per risolvere un'annossa questione. Sono trascorsi decenni e decenni ma il problema resta incredibilmente irrisolto in quanto in questa strada ci sono delle radici di pino che sollevano il manto stradale. Già camminando con l'automobile sembra quasi che a un certo punto la macchina così d'incanto si sollevi, lieviti e immaginate anche i rischi che vi sono per chi procedendo, camminando a piedi rischia di cadere. Abbiamo qui un primo amico che ci ha sottoposto la questione e quindi l'appello che lei rivolge al primo cittadino di Leporano. Lei si chiama? Serafino Giuseppe. Benissimo signor Serafino. Cosa si sente di dire al dottor Damiano? Signor Sindaco prima e dopo le elezioni abbiamo saputo e ci dicevano tutti che lei è una bravissima persona. Quando prende un impegno lo porta in porto. Noi quelle che le chiediamo in questo momento un favore anche perché c'è un rischio continuo. L'altra sera una macchina siccome c'è un tombino sollevato ha spaccato la coppa del motore dell'olio ha fatto una scelta. È un pericolo continuo ed è un rischio vero perché la strada qua non si può passare. Se passano a piedi assolutamente donne che vanno a buttare l'immondizia. Persone anziane soprattutto. Persone che siamo tutti anziani su questa zona qua. Quello che io dico a lei è un favore grande che poi si può tramutare anche in diritto questo favore. ma è un diritto che il cittadino chiede non è un favore. Allora chiediamo un intervento a voi. Venite con i vigili rendetevi conto della situazione perché veramente è pericolosissimo questa situazione. Questo è quello che io chiedo a voi come sindaco. So che è bravo lì. Oltretutto signor Serafino questo problema voi lo avete sollevato con precedenti sindaci. Nasce da 50 anni fa su questa strada signor sindaco. Da 50 anni non è mai venuto nessuno del comune. La strada ce la siamo fatto noi con le mani nostre. Se c'è un po' di biduno l'abbiamo fatto. Il comune qua non ha mai fatto niente. È una via che forse esiste nel comune delle poranze. Ma qua non si avvisse mai nessuno. E questo è il problema. Cercate di fare qualche cosa per questa strada qua. Al di là che paghiamo le tasse. Non voglio dire questo. Le pagate. È un dovere del cittadino. Le paghiamo tutti quanti. Però intervenite subito perché è un pericolo continuo. Questo volevo dire a voi. Grazie signor sindaco. Sono fiducioso che lei interverrà subito. Allora io conoscendo il carattere determinato e la serietà del sindaco che quando prende un impegno lo porta a termine. Oltretutto è un medico e quindi conosce ovviamente i rischi che soprattutto per un anziano derivano da una eventuale malaugurata caduta. Ecco ci uniamo a questo appello proprio per non dico risolvere il problema ma incominciare ad affrontarlo a vedere cosa si deve fare. Bravissimo signor sindaco. Io questo speriamo tutti quanti. Perché signor sindaco qua nella zona a ridosso di questa strada siamo tutti anziani che ho 80-84 anni. È una cosa pericolosissima. Io ho paura quando cammino. Mia moglie va a buttare l'immondito. Questa è una strada veramente. Io non lo so se la conosce questa. Però mi fa piacere. Se le viene qua con i vigili hub in via Tamarici 137 che ne possiamo parlare anche di persona perché non è solo il problema della strada ma qua ci sono altri problemi della strada che bisogna risolvere. Ci siamo spostati così di qualche metro sempre lungo via Tamarici e il nostro amico vuole sollevare il fatto che purtroppo gli alberi non vengono potati e quindi praticamente rendono inutile l'illuminazione che appunto i pali della luce apportano. Niente signor sindaco questi alberi qua coprono i pali della luce e non si vede niente di sire. Ecco perché c'è questo pericolo. Quello che ha rotto la coppa non ha visto con la luce oscura perché la luce non cira. Almeno la potatura degli alberi momentaneamente di pulire un po' questi alberi di fare un po' di luce. Di nuovo io la ringrazio e magari l'aspetto a casa qualche sera quando vuole lì. Con piacere e noi come emittente televisiva io come autore di questo programma lo sportello del cittadino prendo appunto l'impegno di contattare il sindaco e di fare come dire da tradunion da punto di incontro tra l'amministrazione comunale e gli abitanti della zona.